Io serrai, tu serrasti e gli serrò. Il verbo giusto però non è serrare, è riaprire, perché noi vogliamo riaprire i serrai di sottoguda. Noi vogliamo ricostruirli, ma vogliamo ricostruirli più forti e resistenti di prima e che tutte le cose e i lavori vengano fatti in maniera perfetta che se ci dovesse essere un'altra tempesta vaia resta tutto perfettamente integro e il turista e la gente può godersi questo spettacolo della natura che è qualcosa di inescrivibile. Aiutaci anche tu con una piccola donazione a ricostruirli più belli e più spettacolari di prima. Grazie! Grazie!